salve a tutti buongiorno buongiorno buon mercoledì spero che mi sentite è così sembra che le cose vanno bene penso che mi sentite oggi vorrei affrontare un discorso che raramente viene affrontato affrontato anche perché è sempre basato su cose lette e mai sulla razionalità delle cose ossia di ciò che è la nostra esperienza però oltre a questo oggi dobbiamo vedere cosa ne pensa anche la scienza monia di questi piani che si parla tanto di mal cut piano fisico piano spirituale piano grazie a voi grazie a voi grazie a voi sul serio nel mio cuore e tiglia i corpi astrali i corpi lunari ho parlato anch'io ne parlo sempre però questo solitamente è infarcito da tanta teosofia se vogliamo sì quella che è chiamata teosofia è una corrente di pensiero nata alla fine dell'ottocento insieme con tante altre la teosofia era quella che preferiva l'orientalizzazione della conoscenza diciamo chiamiamo il buddismo esoterico diciamo così se non sei adatto a un molto intelligente o con molta devozione diventa normale quindi esoterico se sei adatto ti vengono date delle esperienze ma c'è delle istruzioni maggiori diventa esoterico qui dobbiamo anche togliere questa come si dice questa fantasia no dell'esoterismo exoterismo alla fine anche le società segrete che furono fatti gli ordini e cose varie sono per rispondere a un desiderio da parte degli uomini e delle donne di conoscere più a fondo se stessi la natura il cosmo in cui vivono e tutti i misteri di ora divinità di esseri sottili gli angeli demoni il destino la morte la reincarnazione torniamo non torniamo c'è vita oltre la morte non c'è eccetera eccetera quindi si può dire che la religione è esoterica c'è verso l'esterno ma non è fatta apposta poi è diventata fatta apposta per una questione di potere ma se io incontro due persone e non sono interessate che ne so alla spiegazione della matematica parlo della matematica che serve come tutti poi incontro qualcuno che è veramente molto interessato se io sono bravo in matematica lo porto oltre quindi diventa un iniziato alla matematica quindi poi si è fatto come di tutto come ogni cosa della mente umana si è fatto un discorso molto usabile da parte di elite controllori preti contro preti politici sacerdoti iniziati maghi contro maghi eccetera eccetera però ripeto ancora tutto quello di cui parleremo quando parliamo di questa cosa ecco c'era un blocco noi io sto parlando di esoterico ed esoterico nel senso di quello che a tutti e disponibile perché tutti vogliono quella cosa perché il resto non lo capirebbero o per mancanza di intelligenza perché non gli interessa perché sono interessati ad altro viene chiamato esoterico all'esterno le chiese no i tempi le moschee sono all'esterno per le persone comuni i posti dove si va a fare il pellegrinaggio vai a pregare cose varie la messa tutte queste cose qua sono esoteriche tutto quello che invece interessa un po di più oppure interessa tanto diventa esoterico cioè nascosto ma nascosto interiore sarebbe quindi quindi un mago diciamo così all'interno a proposito sto inaugurando il mese della magia dice però per parlerò per un mese anche molto di magia per andare a ad affrontare ancora più tutto questo visto che ascolto gente che ne parla con la conoscenza dei libri oppure conoscenza è un pianto greco quindi rispondiamo dopo se non finiamo il discorso dopo le domande dopo tenete lì altrimenti non riusciamo andare avanti è giusto anche per le persone che mi hanno detto ma non si riesce a capire spettato quindi con tutto il rispetto rispondo dopo quindi che succede ci succede quindi che l'esoterismo l'exoterismo hanno preso questa conoscenza del mondo materiale del mondo astrale e ne hanno ricamata in tante perché c'è la conoscenza da parte della psicologia che dice che sono soltanto corbellerie eccetera eccetera non la nuova psicologia e c'è la nuova nuova psicologia le cose cominciano a cambiare perché si rendono conto che alla fine le cavolate le puoi tenere in piedi fino a un certo punto ma non puoi tenerli in piedi per sempre siccome la psicologia ancora una scienza bambina che come tutti i bambini ruba alla sorella più grande per farsi bella no quindi poi alla fine si si rende conto che magari che il rossetto che si è messa un po esagerato e che non si mette così la gonna o il cappello i pantaloni devono essere sistemati bene oppure capiti quindi quindi l'errore e qui vi voglio tutti pensiamo e questo è l'errore e io sono stato zitto abbastanza no poi io soffro quando sto zitto perché sono un come si chiama un malato di parlare ma perché vedere gli altri che pensano cose che non sono vere che non sono neanche provate dalla verità diventa molto triste che gusto è che gusto c'è sapere un qualcosa e gli altri non lo sanno e non lo puoi non lo puoi condividere non diceva tieni il segreto ma che gusto c'è cioè se io scopo una ricetta di un gelato migliore mi piace che gli altri assaporino e di guarda che buono sto gelato quindi cosa voglio dire attenzione che non ci sto dicendo come al solito sarò il primo a dirlo perché sto aprendo tanti misteri sono stato mandato apposta quindi poi lo diranno gli altri e segnatevi questa data 24 gennaio 2024 e qui sono le 16 in pratica 19 15 59 da voi se sono qui sono le 16 sono le 10 non è vero assolutamente che esiste un contatto tra mondo di veglia c'è mondo di corpo fisico e quando vai a dormire non c'è cosa voglio dire quando tu sei sveglio sei nel mondo fisico io riporto la tradizione molto alta e molto antica che magari non fa tanto piacere e poi anche sì l'uncio che dice si possono sognare entità astrali che che lasciano messaggi si possono non sognare perché se sognano rimango se sogni rimangono la se invece la maggior parte delle persone s'addormenta quando si addormenta una persona quando passa dal cosiddetto piano fisico al piano astrale ceo piano sottile questo passaggio non ha soluzione di continuità cioè non c'è un ponte quindi i piani sono separati che cosa intendo beh possiamo mi baso sull'esperienza di tutti se voi vi state addormentando e addormentate vi rilassate siete di tranquilli state pensando qua state pensando la immaginate quello immaginate questo vi ricordate delle cose dovete programmate delle altre cose magari cominciare gli immagini strane e poi può qualcosa accade si spegne e solitamente dopo un po quello che sia non possiamo calcolare il tempo sognate qualcosa quindi sete si dice in astrale dopodiché vi svegliate ma cosa manca manca il ponte tra questo mondo e quando vi spostate nell'altro manca questo e da quel mondo e quando tornate a questo mettiamola così per adesso gli iniziati si possono averli anche le altre persone william black faceva anche delle pratiche sessuali molto forti e anche se nessuno lo sanno se lo sa mentre l'altro di tipo nove craft aveva dei poteri medianici naturali anche se non ci credeva perché era spaventato quindi cosa succede cosa manca a noi il ponte ripeto quello che gli antichi in egine c'è da noi hanno chiamato la dea iride dell'arcobaleno quello che nella mitologia norrena è chiamato il ponte di arcobaleno che collega midgard la terra ad asgard il mondo degli dei quindi cosa succede facciamo un altro esempio vi prego di capire dove voglio arrivare fatelo con me stiamo fermi in questa maniera e cominciamo a immaginare portiamoci in uno stato di veglia no stiamo così stiamo sognando da svegli cioè immaginiamo un dinosauro come vogliamo un triceratopo un t-rex tutte queste cose qua lo immaginiamo immaginando in questo istante l'ignoranza ma io ho dovuto dire così all'inizio grazie mica da non sapere no da stupidi stupidità è un'altra cosa l'ignoranza dice a ecco sto immaginando in astrale e pensa che sia identico al mondo dei sogni l'altro state molto attenti se io adesso immagino un triceratopo io lo sto immaginando nel mio astrale cioè io lo sto immaginando qui nella veglia quando accade questo trans dalla parte dell'altra senza mia coscienza io mi trovo proiettato nel mondo astrale come mi sono trovato proiettato qui quando sono nato dicendo ma chi cavolo voleva venirci attenzione che il discorso sembra complesso ma importante è molto sottile è così anche lì chi ci voleva andare ci troviamo lì quindi li siamo in un astrale generale come se fossimo qui in un piano materiale generale l'ammonio magia trasmutatoria quello che io insegno originale attenzione che magia trasmutatoria originale ormai è stata registrata è un trademark quindi questa è dice se vuoi essere immortale devi trasmutare il tuo corpo fisico in corpo di luce attenzione non ti dice questo non lo pensa nessuno ma neanche coloro che dicono sono discendente c'è 30 quattresimo grado 759 virgola 10 virgola 9 9 9 9 tutto pieno di medaglie che non si riesce manca muove anche quelli quindi se vuoi essere immortale devi generare un corpo trasmutare un corpo di luce ma l'immortalità non avviene lì lì ci vai quando non lo sai quando sei dominato dal sognatore generale tra devi creare tu qui l'immortalità essere totalmente svegli infatti una delle c'era un maestro che scherzava diceva dicevano maestro qual è uno dei problemi dell'immortalità no dei problemi delle scusatemi delle cose buone dell'immortalità mi dice invece di problemi delle virtù insomma delle delle fortune non c'è solo è tutto meraviglioso c'è solo un problema se sempre sveglio quindi non sei sveglio lì se sveglio qui di conseguenza quello è un altro piano non c'è comunica comunicabilità potresti essere sveglio lì e molto difficili ma ci sono i sogni lucidi no i sogni lucidi sono fatti qui che quando sei lì non sai neanche di essere qui in questo spostamento di piano conferma i nostri due corpi due universi fisico e sottile non so se mi sto spiegando bene anche perché non posso essere molto prolisso perché servono un po di basi quindi la maggior parte delle persone pensa che muore qui e se ne va lì no morto questo è finito fine lì rimane il corpo c'è già non te ne vai lì questa è una cosa rivoluzionaria che vi sto dicendo della conoscenza iniziatica spero che l'apprezzerete ripeto è difficile da trovare dei grandi libri dei sapientoni questa la verità però quel corpo già la di là già ce l'hai perché sogni perché ti sposti ogni notte l'ho detto spesso delle volte quando muori tu ce l'hai già pronto solo che è incosciente cioè non sai di essere e quindi vivi come se fossi qui come quando sei nato e sei qui non sai perché dove come è la stessa storia questo è un altro discorso ci arriveremo parlavo dell'ultima domanda è nato discorso non parliamo di neuroscienza neuroscienza si basa soltanto sulla conoscenza di quegli stati da questi studiandoli da questo stato cosa che non è possibile perché questo stato è possibile solo studiarlo in questo stato mal cut lo studio in mal cut quello stato esodico lo studi di là di dire neuroscienze sono fuori strada infatti però molti non se ne accorgono perché in molti sogni si hanno sensazione ma certo che si hanno sensazioni reali quando sei lì è vero sei lì e tutti sposti un pochino nel piano esodico cioè in quella zona quando sei lì per te vero come quando sei qui per te vero quindi mal cut è vero jesude vero così come sarà vero ti ferete così come saranno vere tutte le 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 sfere che tu andrei a toccare saranno vere nell'istante che devi ma qual è il punto il punto è l'errore di dire fai del bene qui te lo ritrovi lì all'inferno il paradiso anche i cosiddetti libri dei morti che sono conosciuti anche male perché si pensa che viene fatto così per guidare l'anima nell'aldilà si nell'aldilà mal al di là che tu immagini è da di qua perché lì è un altro al di là non c'è comunicazione a meno che non sei un cristo oppure sei riuscito a fare un collegamento quindi se io immagino un triceratopo o se io riesco a creare un corpo di luce o riesco a generarlo o a trasmutarlo e qui nella sezione di veglia che io ho generato l'immortalità tanto è vero che gli alchimisti dicono solve a poi coagula perché se non coaguli non è perfetto ma si coagula qua quindi qui sei cosciente qui non ci sono altri piani perché una volta che coaguli tu torni a essere uno finché ti sciogli adesso tu pensi di essere qui in malkuth in jesot in tiferet in cater ovunque sia che sono le sfere che sono uno le emozioni un intelligenza uno da cosiddetto subconscio uno cosiddetto la mente superiore cose varie ma questo è la via di tutti in realtà tu sei uno solo che come uno specchio sei caduto a terra ti sei spaccato in migliaia di pezzi e pensi di essere che ci sono tanti piani ma non per niente il grado massimo di un iniziato nella tradizione occidentale ipsissimus che significa il latino per se stesso cioè sei giunto a te stesse tornato integro certamente rindotto nel contro è per questo che voleva arrivare per questo c'è questa battaglia qui perché un piano chiuso come lì è un piano chiuso le stesse cose ci sono la in altra maniera quindi quando ci ricordiamo i sogni che significa la memoria non può essere una sorta di ponte no perché non è vera memoria ora vi porto voglio portare un pochino in alto è un pensiero che stai generando nell'istante che tu lo pensi nessuno si ricorda i sogni è un pensiero che stai generando memoria significa io prendo un pensiero che è successo ieri lo prendo dalla e me lo metto qua chi riesce a farlo nessuno perché non è possibile cos'è quindi quello che io chiamo memoria chiamare memoria e generare un altro pensiero che si sta riferendo questo pensiero presente a un pensiero passato che può essere dei sogni o non ma di questo pensiero passato non c'è più la presenza c'era nell'istante che c'era questa è la visione della memoria da livelli molto alti scendiamo un pochino aspettate aspettiamo stanno l'aereo si sta scendendo e l'aliante comincia a scendere allora abbiamo delle esperienze generali nell'istante che l'abbiamo quelle si depositano in un cosiddetto subconscio in un deposito e quindi noi li vediamo ma andiamo a leggere un documento iniziatico cioè che cavolo sta dicendo questo esaminiamo un attimo ecco questo qui secondo croli ci sono stati in tutta la storia solo massimo 12 maghi chissà quanti pochi psissimi quindi io non penso che croli erano inizioni psissimus era un magus perché uno che muore dice sono perplesso un psissimus non è era un grande mago questo simile alcuni psicologi ritenendo che i sogni siano prodotti dalle impressioni della veglia li studiano in quest'ottica attraverso esperimenti hanno scoperto che certi sogni sorgono a causa di una particolare condizione mentale nella veglia inoltre hanno diagnosticato le malattie mentale in base ai sogni dei pazienti li hanno sottoposti a trattamento e talvolta li hanno curati così la teoria sulla relazione tra il sogno e la veglia si è consolidata in breve la teoria degli psicologi e la seguente nella nostra mente ci sono due scomparti uno per la memoria e l'altra per l'oblio in base alle nostre esperienze sensoriali alcune emozioni rabbia paura felicità sorpresa eccetera vanno nello scomparto della memoria e li rimango altre non essendo utili non posso vedere le cose scrivete vedo un po di pazienza altre non essendo utili alla nostra vita immediata sono riposte nello scomparto dell'oblio anche lì la maggior parte di esse è messa in un angolo alcune rimangono in una situazione liminare cioè a livello al limite e riappaiono non appena stimolate se lo stimolo proviene dall'esterno è chiamato veglia se viene dall'interno è chiamato sogno non vado oltre che diventa troppo complicato in una cosa divulgativa così leggo adesso no croio non era sì infatti ho sognato una strega di fango che mi lancia che mi lanciava fango nelle mura distrutte di un castello io ero spaventato e con una ritmia forte mi sono svegliato quella caduta la avete capito cosa è stato detto un grandissimo inchina a voi cosa è stato detto alla fine se uno stimolo viene da fuori e veglia ma se vieni da dentro e sogno ecco la descrizione mondo esoterico esterno mondico mondo e mondo esoterico esterno mondo esoterico interno allora che cosa voglio dire mettiamo un attimo da parte il posto dove andiamo a sognare che non ci porta assolutamente voglio dirti di non farti impressionare si riuscita queste cose c'è perché lì c'è il deposito della memoria e poi continuo della memoria globale molto spesso questo sogno non è tuo vi dico una piccola confidenza quando sognate cose che di temati di dove cavolo sono brutte queste cose non sono sogni vostri sono depositati la quindi magari quello non c'entra con la tua vita perché non c'entra centra avrebbe con la tua vita se legato a no delle cose quindi sono sogni di altri magari il sogno del vicino di casa o magari è qualcosa che è accaduto liberamente quindi la mente si sposta e vede la ma molto spesso possono essere magari cose accadute in altri universi questa è la conoscenza c'è questa cosa qui no è accaduta lì lì accade quindi molto spesso il problema della cattiva informazione di questi livelli fisico e astrale è lì che ti voglio portare per capire è una cattiva informazione perché si tenta di connettere quello a qualche problema che noi abbiamo non è così oa qualcosa che accade qui il sogno cosiddetto profetico non dice sogni la epoca di lì è un'altra cosa ancora e potremmo parlare se ne abbiamo tempo sono tutte cose diverse quindi quello che tu hai visto di la strega cose varie è accaduto lì ma chissà chi mi capisci è come di colpo di svegli trovi in un sogno in mezzo da una sparatoria o la guerra dove sta avvenendo questa guerra perché se è sognata l'impulso interno qualcosa sta da qualche parte sta avvenendo non in te ma da chi capisci cosa voglio dirti quando distretta e attento quindi anche fare impressionare più di tanto l'overcraft ti fece impressionare tanto da dovete dire no le cose che io sogno non sono verano e perché altrimenti impazziva ma teniamo presente che nel periodo in cui l'overcraft sognava queste cose stavano accadendo altre cose nel mondo magico e nel mondo della vita che indicavano che c'era qualcuno qualcosa che stava penetrando la coscienza umana furbamente l'overcraft non ha detto che era nel mondo dei sogni ma tra cioè ossia un universo ma tra gli universi perché così più lecide la vita più sembra duro e quindi io consiglio a silun e altri quando fanno un sogno che non riesco a dire ma che cosa significa di chiudersi immediatamente perché lì alla l'overcraft c'è poi potrebbe entrare tramite la coscienza sì anche tu in pix la coscienza umana entrare qualcosa come entrato dalla coscienza umana e ne stiamo vedendo che cosa sta succedendo quindi chiudetevi mettetevi dei bracciali di metodi di rame ai ai polsi questi sono molto importanti se volete bloccarvi completamente due alle caviglie due i polsi anche una collana questo qui protegge c'è non siete acchiappabili vedete ma non siete acchiappabili molto spesso si sogna meno perché maschera di verità per stabilizzare la sua norma di insonanza cognitiva è quello che stava succedendo in quegli ultimi regola certo è proprio così proprio così sottoscrivo quello che che dici è perfetto tra l'altro la cosa interessante però che per esempio c'è la descrizione di lovecraft dall'inizio di un suo romanzo che descrive precisamente ciò che stava accadendo nello stesso istante da un'altra parte con la magia che la discesa di questi esseri l'entrata nella sfera terrestre di questi esseri sfruttare si intendo il mondo di veglia delle persone questo mondo che è chiuso è un cubo potrei sapere come è finita la storia degli impianti figli finita con impianti fisici si sono già pronti ci possono acquistare no sto facendo lo store ancora non si può perché devo aspettare o noti il permesso che sono molto particolari possono dare anche problemi aspettando il permesso da chi deve essere dato quella quindi quando mi fermo e c'è qualcosa che non va e quindi bisogna avere un po di pazienza o comunque ne ho dati abbastanza nel corso di deprogrammazione se le prendi ci sono chi ci sono ma pensa 100 milanette di dove c'è di cui ce ne rimangono ventimila e infatti è proprio così quando lei ci consiglia di iscriverci i sogni a cosa ci serve quei sogni servono al cento per cento a vedere ciò che è nel mondo separato da voi affinché possiate fare un ponte tra qui e lì chi si scrive i sogni e fa un diario dei sogni giunge a generare una specie di coscienza tra qui e lì comincia a generare non dico un ponte di coscienza ma di più presenza e quindi a non subire quello che per esempio ha subito lovecraft da come ne stiamo leggendo anche con il nostro amico qui che ci sta dicendo poi no no mi impressiona ho letto anche lo splatter punk di dark fantasy medievale certo certo ma io dico chiudetevi mi raccomando quindi quando due persone fanno lo stesso sogno e sono nello stesso scenario uno dei due entrato nel segno dell'altro no io direi che vi trovate nello stesso posto no nello stesso posto un attimo siete nello stesso posto proprio questo ponte noi non lo conosciamo e quindi ci troviamo ma sapete quante persone si trovano nello stesso posto di notte come come di giorno ci si trova direttamente in una piazza perché alla fine è sempre la stessa cosa che accade poi io sto facendo il corso bene lì ci sono tanti 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 advice che funzionano veramente e la tecnica per farli e ben detta io questa notte ho sognato un posto dove c'erano persone ma c'erano anche tanti insetti non è un posto molto buono insetto non ha un significato proprio meraviglioso solitamente anche in magia l'insetto è usato per cose non tanto potete forse magari possono essere disturbi fastidi comunque sono posti di bassa strada e quindi ricordiamoci che quello che pensiamo attira ciò che siamo un attimo rispondo riesce quindi ok poi maestro so di esulare a me è capitato di fare sogni premonitori sì allora i sogni premonitori non sono sogni dall'altra parte che sono due universi separati il sogno premonitorio è semplicemente proprio diciamo il proprio subconscio che ci indica quindi stai sognando dentro te stesso non stai sono ci sono sogni diversi sogni di lovecraft sono veri sogni perché sono dall'altra parte tutti noi di solito sogniamo cose nostre quindi immaginiamo una cosa voglio essere più più chiaro stai dormendo sogni un sogno premonitorio il tuo corpo strada diciamo così sottile è rimasto vicino al tuo corpo fisico contatta e lì è libera la mente viene fuori ciò che è stato preordinato da te come tuo destino e tu lo vedi questi sogni premonitori se invece tu i sogni veri dall'altra parte sono sogni che non hanno niente a che fare con questa terra con queste idee con cose premonitori della tua vita con parenti sono completamente avulsi come la strega che gettava no quelle cose la oppure i sogni di lovecraft sono avulsi ti sogni di essere in una città tol metà mente ma come faccio a vedere sta città c'è cose strane oppure persone quelle un sogno dall'altra parte stanno arrivando questa è una cosa che riguarda io penso la tua vita quindi inteso disturbi fastidi vedi chi sta infastidendo potrebbero essere anche difficoltà fisiche no queste cose qua quindi ripeto se sono legati a cose di qua sono sogni vostri sono volte ogni fatto intorno alla vostra sfera di sensazione se sono sogni tutti diversi sono nell'altra parte che ripeto non è colle connessa con questa parte io ho una volta l'ho sognata andavamo insieme per un tunnel sotterraneo e lei mi diceva per vari luoghi c'era una specie di tempio sotterraneo con arcate tipo antica roma questo è anche molto interessante perché come di sempre dico io sono presente anche dall'altra parte come tutti noi e tendiamoci magari sono un pochino più cosciente con le varie i tunnel sono l'entrare dentro fatto anche delle lezioni sui tunnel proprio di andare nei diciamo sotto la costruzione di te stessa quindi sarebbe molto importante che ti facessi una lista dei simboli che hai visto che so fogna muro fatto così una candela un topo una porta una lista e da lì no vedere tramite il simbolo la spiegazione quindi qui lì se ti crei l'immortalità non la crei lì e la crei qui lì non puoi quando diciamo muori allora c'è il distacco e vai li ecco perché non c'è contatto con i morti a meno che non fai un piano particolare di collegamento qual è il piano di collegamento molto spesso sono i simboli e le tecniche che vengono insegnate nelle varie scuole iniziatiche compresa la ho con i tecniche che danno la possibilità mediante la tua capacità interiore il lunare di entrare con la parte più di interagire con la parte più grande come diceva cremes la maria personale con la miriam universale diciamola la moderna anche se non è subconscio tuo con subconscio universale sono due cose differenti diversi è molto importante questo qualche volta prima di andare a dormire non dico mi dico cosa voglio sognare qualche volta sì perché lo installi nel corpo lunare tubo quindi nella sfera di sensazione e quindi lo sogni certamente ma non è che vai dall'altra parte buongiorno e quando ci accorgiamo di essere forse dall'altra parte ci spaventiamo di solito è sì perché troppo completamente diverso siete dall'altra parte se è veramente diverso se per esempio come ultra ultra marine blu sogna una cosa più umana sogna me o qualcuno più umano quello è un contatto telepatico diciamolo ci diciamo la tutta solitamente si entra in contatto con chi si rispetta con chi si vuole bene o lo si ama o si studia c molto spesso quando studiavo la filosofia tanti anni fa era un ragazzo sognavo heidegger sognavo platone sognavo proprio sognavo socrate sognavo ci bisognavo una volta sognai di essere la scuola di atene non era come l'ho vista dipinta però immagini nei miei sogni c'era la scuola di atene trai non mi ricevettero perché platone rimpegnato posso capirlo voglio dire io andavo a bussare avevo 16 e 17 anni quindi voglio dire certo però l'ho sognato perché talmente lo studiavo era stupendo no alla fine però era dentro di me quindi esistono anche contatti con i mondi interiori però lì ci vuole tanta pratica per entrare in questa cosa però quello che voglio comunicarvi qui è una cosa qui è un'altra la veglia è una cosa il mondo del cosiddetto sogno è un'altra cosa non hanno niente a che fare quando c'è qualcosa che ha a che fare col mondo di veglia è qualcosa che riguarda lo stesso mondo di veglia più sottile è chiaro ma non quella parte lì so che fuori tema ma il priorato di sion nel rene chateau è tutta un'invenzione o c'è del vero ma c'è del vero dobbiamo per dire se è vero bisogna credere alla maddalena bisogna credere che esiste una discendenza di cristo bisogna credere che cristo ha fatto figli e che la l'unica discendenza reale del pianeta la più grande l'unica assoluta è quella fatta da da questo cosiddetto o falegname ore o re discendente di davide ci sono tante cose che bisogna credere se lo ci ci crediamo si esistono effettivamente questa discendenza però noi non sappiamo se vera io dico sempre di usare cum granosali si studiate leggete ci sono dei misteri magici alchemici molto spesso i misteri magici alchemici e la chiesa di rene chateau e questo vengono nascosti in queste storie metto in un sogno guardato nello specchio avevo un'altra faccia ma le persone presenti erano quelle della mia vita da sveglio molto spesso lo specchio indica il subconscio quindi sicuramente era la tua parte diciamo nascosta chiamata ombra quindi non sono sogni dall'altra dimensione infatti questo volevo dire prima di ci sono sogni in questa dimensione i sogni dall'altra dimensione sono rarissimi dovete leggere l'overcraft o tutta sta gente qua per capire per capire come sono sono terrorizzanti molto spesso perché non hanno a che fare con la nostra mentalità il nostro pensare il nostro la nostra società non hanno a che fare c'è tutto con tutto il nostro impianto genetico quindi sono terrorizzanti magari non vogliono non vogliono nulla di male ma sono terrorizzanti non sono alieni poi una volta mi sono svegliata con un forte dolore al cuore ho aperto gli occhi e la stanza girava attresamente aprivo gli occhi gli occhi ma come non cambiava è durato un po e questo è il corpo sottile non eri ancora nel corpo fisico quindi ieri metà e metà nel tuo cuore quindi spesso quando ci si dorme si sta proprio non è che si va in giro il corpo sottile non ha bisogno di andare in giro a meno che non va in questo piano è come una specie di radio si mette in quella quindi però è sempre sopra di noi questo questa luce evidentemente non c'era ancora il contatto e tu hai hai visto con quegli occhi il quale seminario testo dei tanti possa approfondire disturbi depressivi e loro trattamenti sicuramente nel corso di deprogrammazione sicuramente nel libro del mercurio tu troverai le piante adatte per aiutarti e poi nel libro dello zolfo che si fa dopo per ora farò quello del sale poi che puoi trovare anche dei dei sostitutivi e dei delle cose molto potenti ok li li trovi ho sognato di essere con lei in antatide cercavamo di trovare il re del mondo interessante qualche giorno questa è telepatia qualche giorno fa io pensavo di parlare del re del mondo quindi mi vuoi bene o mi rispetti e quindi ai questo accade questo accade no tra di solito insegnanti e allievi ma anche alle scuole normali no quando ci rispetto reciproco stima no quell'amore filiale e quell'amore diciamo da padre oppure da amici molto profondo e fraternici sono questi scambi ma non sono sogni dell'altra parte tentando di inculcarvi sta cosa lì quando sognate è rarissimo che c'è andata quando siete veramente lì devono essere paesaggi diversi posti diversi solitamente se sognate che se voi state sognando che siete in casa che siete con vostra moglie vostro marito vostro compagno i figli non state sognando cose fuori siete nella vostra nel vostro corpo nella vostra sfera di sensazione è chiaro e i vostri simboli ma vivendo in tailandina mi ero interessato molto a garuda si è in quel periodo ho sognato che entrava in un villaggio dove vivevano strani uccelli ecco quello è un sogno dall'altra parte hai connesso hai connesso che di solito questi sono vecchi vecchi dei vecchie cose che rimangono connesse poi seri nel nel qui nel lo c'è nel loco no nel il dio del luogo in pratica è la garuda idee che ha fondato si dice della tailandia piglia e connesso certo forse voleva da te magari qualche ringraziamento dell'ospitata genius loci che ti ha dato quando moriamo siamo nei sogni dell'altra parte o qui voglio volete che sono sincero o volete che sono come tu come si pensa e si deve pensare ditemelo a voi se se volete che sono sincero io sono sincero però come dice luca rossi poi va in crisi se vuoi dire sono sincero sono sincero è io ho sognato un enorme serpente bianco che mi ha morso la palma delle mani e pensavo che moglie muoio accettando questo poi si è fatto piccolo attorno al polso sinistro e poi si è trasformato in gattino quella tua sensualità la tua sensualità e questa è la tua kundalini a tua energia la tua scecchina la tuo fuoco chiamalo la tua vita la forza vitale quindi ti sta a indicare che tutto ciò che potete di cui questo è tuo un sogno personale il gruppo aver paura puoi afferrarlo tranquillamente con la mano guarda caso la sinistra quindi poi sincero non si va da nessuna parte si rimane con i propri sogni le proprie idee che su buono brutte e siccome si entra dentro come quando si dorme quindi sia l'impulso da dentro come ho detto prima si vivono i propri inferni e paradisi nell'istante stando solitamente proprio dove sta cadavere solo che non lo vedi perché c'è differenza di piano per questo ci sono state le tombe non si va da nessuna parte non si sfreccia nei cieli non non si va da pianeta pianeta quando mai si muore la morte non esiste se esistesse la morte non sarebbe non potrebbe esistere la vita una cosa una cosa che muore non c'è più ma se c'è una cosa che muore vuol dire che è nata ma siccome non c'è prova né di nascita né di morte non esistono i suoi due c'è un'esistenza assoluta eterna continua solo che in questa esistenza ci sono due stati veglia sogno o vita morte o marco e jesus chiamatelo come volete questi sono i due stati quando muori strano che nessuno sa di quando nasce nessuno sa quando muore vede nascere gli altri vediamo degli altri nessuno ha mai visto morire se stesso questo dovrebbe farvi pensare nessuno ha visto nascere se stesso si è una sciocca fa dimenticare tutto ma si rimane lì diciamo così spazialmente anche se non è corretto quindi non si esce il corpo astrale dal corpo quando si muore la gente comune no perché non ce la manco il corpo astrale quello si forma l'ho sempre detto e non è che io dico una cosa otto anni fa poi ne dico quello se non c'è quello lo devi formare certamente non ce l'hanno quelli che ho visto oggi dai furri cose varie che giocano vogliono tornare indietro essere cani e colpa strale il cane non ce l'ha astrale significa dato dagli astri quindi più indietro vai meno ce l'hai noi quando uno nasce qui secondo l'antica tradizione che è l'unica non secondo riccardo villanova la tradizione tu nasci con un prestito di corpo astrale da parte di mamma e papà punto poi se lo coaguli e lo generi ok allora lì è un'altra storia ti sposti sia qui che dall'altra parte coscientemente allora sì diciamo così ti puoi spostare in uno spazio tempo finché tu vuoi uno spazio tempo quando poi qualcuno ha scritto prima corpo mercuriale riesce andare ancora più sullo spazio tempo non c'è più e lì è via vita spirituale di cui è inutile pure parlarne perché già si ha difficoltà a far comprendere questo quando uno muore rimane lì dove è e vive nella sua mente sottile tutto quello che ha visto tutto quello che ha vissuto si apre la mente anche le cose precedente e poi viene dimenticato tutto e poi ci si risveglia di nuovo in un altro feto in corrispondenza comunanza con genitori fila filologia di genealogia e cose vari potrebbe essere anche che nasci dopo come diceva crema e su un maiale torna maiale c'è una sinistra fase sei umano e se vi da maiale quello è non per essere bruti no ma per seguire virtù e conoscenza disse dante è molto chiara questa cosa mi pare lei abbia detto che quando immaginiamo siamo nell'astrale per questo sì certo personale quando sogniamo nell'astra si del grande sognatore che differenza c'è tra il sogno il viaggio in astrale il viaggio in astrale lo fai nella tua sfera sempre però lì il viaggio mentale un'altra cosa vai te ne vai fuori c'è il pot la possibilità di viaggiare in astrale nella sfera del sognatore quando hai formato un corpo astrale finché non lo formi tu viaggi in te stesso immagini sto immaginando di andare in antartide immagino l'antartide sto facendo una specie di viaggio astrale ma dentro la mia sfera nell'istante che io sognassi di essere in anta e sono veramente in antartide con tutti i sensi questo è il viaggio nella sfera grande chiaro il difficile uscire da se stessi ecco perché non si riesce a uscire no con la con il razzo fuori dalla dall'orbita bassa no non è che sono le stesse cose lo so ne ho sognato lei mi diceva di andare in un certo da un certo ruggiero per comprare la vetreria di distillazione a interessante però dovresti vedere la discende il significato di ruggiero l'etimologia e vedere di avere qualche indicazione per quanto riguarda ciò che c'è da distillare potrebbe indicare qualcosa telepatia nessuno può fare esperienze della morte come si farebbe a percepirla non c'è neanche il vuoto non c'è neanche il concetto di essere nessuno sa di nascita nessuno sa che muore vedi gli altri qui c'è un grande mistero ma lo lasciamo un po da parte ma quindi le anime presenti nel pianeta terra sono sempre quelle e lo stesso numero inizio di creazione io ho detto le esperienze sono sempre stesse le persone sono sempre stesse le anime sono sempre le stesse tranne quando via via qualcuno passa oltre le esperienze terrestre di cui io vengono prima i falciatori come ce n'è tanti adesso li annunciai anni fa poi arrivano i raccoglitori portano via diciamo così dai usiamo questa immagine che vi prego se non si riesce se non si usa l'immagine a simbolo non si può usare la voce bisogna capire arrivano questi diciamo così questi raccoglitori e portano via e esperienza superiore questo per quanto ciò che riguarda la cosiddetta via indiretta di tutti esiste una via diretta o via secca che è immediata ma questa come diceva il nostro amico prima come disse crore se no ci sono se no ci sono 12 maestri stati 12 maestri i psissimus quindi è la stessa cosa quando uno passa oltre ce ne sono sempre stessi disse cremers se noi sapessimo che siamo sempre gli stessi come ci come ci daremmo meno problemi no facciamo le stesse cose perché quelle sono le idee finché non le superi o non le lavori con la tecnica che viene insegnata e la insegno anch'io nella op e dalle scuole vere le cose non vanno bene quindi non ci sono diversi tipi di sogno ci sono diversi tipi di viaggi in astrale sì quello è il sogno cos'è un qualcosa che nasce all'interno se è normale dentro di te se fuori da ogni tua logica e nella sfera grande quindi è del sognatore quello che ha creato questo universo andatevi a leggere le prime pagine del libro di eno buongiorno non è semplice prendere consapevolezza di tutto questo i nostri sogni sono passato futuro prima di scrivere nel sito ho sognato che lei mi dava il benvenuto con un whatsapp benvenuto e questo qui e io potrebbe essere karma ci siamo già conosciuti nessuno conosce persone diverse sapete da lì le antipatie o le simpatie quindi se c'è simpatia c'è stato qualcosa diceva che riapparire non si è gli stessi ma solo a tendersi certamente questo qui io confermo ora vi ricordo che fatemi una piccola parentesi 15 16 e 7 marzo c'è il ritiro l'incontro di alchimia la pietra di fuoco e quindi come usarla quindi come risvegliare questo corpo astrale per tentare di poi coagularlo come come una botta quelle pieno però ci sarà e ci sarà l'altro il 29 30 31 quindi perché mi è stato chiesto già si sta riempendo quindi se siete ancora attenzionati e lì vi ricordo che per chi conoscono che che la persona che si è occupata per molto tempo asma rulla di aiutarmi fisicamente ha avuto dei problemi quindi seguirà dall'interno si occuperà di disciplina si occuperà facendo parte dell'ordine di disciplina e di tutto ciò che legge dell'ordine il sì e il no e pratica prende il posto una persona da me scelta molto c'è in gamba però e academy quindi che si occuperà della segreteria di tutte le cose la persona in gamba in gambissima quindi ti occuperà di tutte le cose e rispondere a tutte le vostre domande che riguardano i lavori cose istruzioni scuola tutto quindi scrivete su chiocciola academy m ra se andate su telegram aggiungete chiocciola academy m ra e lì vi risponde la segretaria quindi se non fosse in gamba non avrei messa a fare queste cose quindi as barul sarà per cose più interne e per ripeto disciplina e osservazione della legge quindi ripeto lui è il sì e il no va bene quindi non siete persi che te la le persone che ci sono sono in gamba o come non fanno questa missione quindi vi ricordo quindi il cammino della salamandra magnetica o pietra di fuoco evento straordinario di alchimia superiore in presenza cos'è la pietra di fuoco la generazione con il metalli veri di una pietra particolare che magneticamente come vedrà la persona andrà a dare un colpo al vostro astrale dandoli una certa coagulazione per avere l'esperienza giusta che serve per capire che cosa sto dicendo anche adesso ma in maniera pratica siccoli disse ora leggiamo e per informazioni quindi qualsiasi cosa potete chiedere qualsiasi cosa mentre guarda questo poi per quanto riguarda le cose delle scuole così ci sono pure io voglio dire ci sono sempre io sempre sono lì che state tranquilli è tutto come si deve e quindi su telegram aggiungete chiocciola academy m academy m r a è ok poi si croli disse per far comprendere quanto è difficile sia arrivare uno stato coscienzale simile che c'erano strati del massi e certo 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 beh sì e maghi 92 non i psissimus perché anche se lui prese il grado di psissimus nei comportamenti non erano tanto dai psissimus perché poi il problema dei poli che sempre che è stato strappato in due tra magia e misticismo tra magia e misticismo tra magia e misticismo non ha mai fatto una scelta cioè diretta e poi la tecnica pure che lui faceva della sua magia sessuale non era la più alta essendo umida e non era secca la via più alta e quella secca quindi lui non era capace di fare la via secca per via anche delle droghe che a cui fu avviato per malattia ma che poi è stato si può aiutare ma a quel punto la volontà va giù anche se era bravissimo per carità uno dei migliori maghi del novecento anzi io penso che il migliore quanto riguarda la conoscenza tecnica però poi ci sono sempre i però io sono un po indietro con lo studio posso fare il seminario lo stesso ma certo non c'è problema certo seminario 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 l'ho fatto il 20 l'ho fatto l'altro giorno sono anche tagliato quindi si potete insegnare che volete certo ci sono io per i concetti non c'è problema ci sono io per aiutare tutto poi tutto sempre durante il periodo natalizio l'ho sognata due volte in un sogno lei e vivia vi trovavate nel mio paese e vi tenevate per mano a che bello non so dove il tuo paese non lo dire perché come dice in privato una cosa di privacy però bello però vedi il nome del paese collegalo e vedi il messaggio questi sono i soliti sogni dati da da contatto mentale seminario disponibile anche in presenza online il ritiro e in presenza e online se uno può anche online poi sarà ben fatto perché così un inchino a voi quindi sì 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 e anche anche online sia in presenza che online è vero che dura ma a me come se dentro non si potesse più tornare ma sai cosa devi fare luca io per quanto riguarda tutte queste cose io ti consiglierei sinceramente di prendere della cannella non sto scherzando la verità cannella puoi prendere della si chiama anice stellato metterli a bagno in alcol un altro che compri lo lasci lì nel buio sette giorni almeno ogni giorno vai lo muovi ogni giorno vai al buio l'ottavo giorno lo prendi lo apri dovrebbe essere straordinario metto una bacca di cannella metti 45 anni cistellati 300 400 di alcol poi questo qui potete fare anche tutti voi se siete un po depressi un po impauriti di queste cose un po di paura la pulsione uno va andare avanti oppure rimane potete assumere questa cosa sotto la lingua chiaramente non così pura se no andare a finire all'ospedale lo diluite con state attenti che non sono allergici né all'anni cestellato né al come si chiama alla cannella tre gocce pure in cinque sei dieci gocce d'acqua vi dà un senso di forza intelligenza stimola il cuore stimola l'intelligenza stimola la spina dorsale stimola il flusso del corpo sottile e vi dà tante capacità va bene volevo poi si dentro di alchimia è disponibile anche online volevo poi anche dire un'altra cosa che mi sta passando di mente adesso cosa volevo dire va bene se mi torna in mente lo dico è chiaro io sono qui sto pensando a un rinoceronte questo il mio astrale l'immortalità la creo qui è chiaro qui con i miei poteri che indica generare il corpo di un anno c'è il corpo di luce in pratica no se se muoio rimango qui finché non mi coagulo un'altra volta quando nell'istante che un ovulo è un e non si uniscono nell'istante giusto in legame con i miei aspetti astrali con la famiglia e siete con il sangue cosa tutto non vado dall'altra parte se andassi dall'altra parte non tornerei più qui perché quelle un'altra posto spesso è chiamato universo b quindi c'è di tutto verso b e l'opposto l'universo a mentre l'universo a stati con l'universo b e fluidico e fluido e caotico fare un ponte tra uno e l'altro è diventare un dio di questo ponte lo fai se qui prima sei cosciente tutto completo non solo qui come corpo fisico ma anche come ho detto immagino di essere un rinoceronte immagino esso è veramente le cose appaiono allora tu puoi fare il ponte per l'altra parte se non sei schiavo che chiuso qua chiuso il cubo cubo di spazio quanti anni possono passare tra incarnazione c'è una regola solitamente sincarli immediatamente come dissi tempo fa ci sono diversi tipi il tipo comune che mangia beve se ne frega pensa solo alle cose materiali cose va non ha neanche uno spirito di intelligenza superiore un po come quelli che pensano di essere cani gatti uccelli cose varie buone tac e immediata in pratica si prepara prima l'incarnazione appena muori tac trovi qualche utero pronto ad accoglierti può essere anche ripeto utero dello scarafaggio non c'è nessun problema se ci avesse l'utero l'uovo lo scherzo dopo si va su e giù ecco che si dice è così rara l'incarnazione umana che chi diventa uomo neanche lo sa perché per diventare immortale ed essere libero uomo devi diventare o che se usia un deva e vivi di la o che tu sia un animale o un asciura e vivi sotto tu devi essere uomo quindi tutti la spregano sta possibilità che l'uomo ha il pentagramma l'uomo è completo a tutti gli elementi completi gli altri no neanche gli dei anche gli dei finiranno vivranno le loro immortali vite per eoni ma poi finirà perché tutto finisce ciclico di fronte all'assoluta coscienza divina e solo l'uomo è pentagrammatico quindi devono tornare a incarnarsi spesso li vediamo che si incarnano questi esseri sono come esseri bellissimi o brevissimi nella musica artisti o grandi scrittori che muoiono giovani solitamente che sono ci stanno provando poi nel dominio delle realtà astrali il tempo esiste no e la percezione di essere modifica non c'è tempo non c'è spazio per farti un'idea dell'astrale fai così immagine per un attimo che mentre tu apri gli occhi stai aprendo un universo stai aprendo una cosa che vedi ci sono le cose e tu dai il tempo che vuoi immagine che il sole scende sale poi immagine che ti chiude se leggi anche croli quando parla del piano astrale capirai molto di queste cose non c'è tempo e non c'è spazio le cose si interpenetrano sostiene sostiene in caso di sì sì certamente questa è molto adatta per la depressione molto molto adatta molto adatta stimola molto se volete dare una botta ancora maggiormente metteteci anche una decina di chiodi di garofano ma è molto forte è proprio quel cubo e la coscienza quel cubo è la coscienza che in cui siamo anche l'universo in cui ci ha inscatolato bontà sua quello che è diventato un dio come dovremmo diventare tutti noi però questo non è tanto amato dalle religioni per avere immortalità della scienza ammonia e crea il tuo universo e trasferisci td perché la coscienza è l'unica cosa che conta questa è vista come diabolica perché perché non dai più per fare questo se la coscienza ha la parte principale non ha la parte principale tutto il resto gli uomini da bene il walk questa è la vedervia individuale non ne parlo tante parlo sempre in privato perché sennò di già mi hanno detto che ero peggio di croli figurati vi sembra parlare queste cose con tutto il rispetto per quello io non vedo rispetto perché aveva ognuno ha fatto la sua vita sì molto carino mi ha messo un gran buon umore comunque certo le scriverò il nome vedi l'etimologia vedi che cosa vuol dire vedi i simboli intorno perché nel passato si aspettava tre giorni prima di seppellire una persona molta in realtà dovrebbe essere ci vogliono tre giorni secondo la coscienza la conoscenza iniziatica affinché il corpo astrale finisca completamente di staccarsi dal corpo fisico molto spesso capitava che il corpo astrale non si era staccato per morire si era staccato per qualche cosa e poi tornava nuovamente dentro la persona si svegliava sottoterra tre giorni ci vogliono per staccare completare questa cosa qua poi mio figlio mi diceva a 45 anni non dirgli se la vita perché così sono anche la morte io sono tua mamma tutto ma ma se bene i bambini nascono così i bambini sanno tutto se non sarete come i bambini non si aprirà il tempio dei cieli noi tornare bambini significa purificarsi fare la deprogrammazione entrare in uno stato di innocenza perché solo l'innocente non conosce la vita e la morte diventare un folle che non sa però esiste ed è felice a essere senza ego cosa pensa di chi lascia questa dimensione in età molto giovane ma solitamente quello è un errore da parte dell'anima o come ho detto molto spesso sono entità non umane che prendono un corpo umano non lo sanno guidare come come molti hanno una ferrari una lamborghini una macchina foto non la sanno guidare si vanno a schiantare papale papale per poi portare si intende il corpo lunare il corpo lunare la parte inferiore del corpo astrale il corpo astrale vero è l'unione del corpo lunare personale con il corpo mercuriale legato alle stelle quindi astrale dato dagli astri e con la grande capacità dell'alchimia e magia trasmutatoria che la gente non conosce anche chi dice che fa percorsi verso vabbè lasciamo perdere quindi se non c'è l'unione di questa forza mercuriale chiamata anche astrale che è nel cielo e quindi l'energia delle stelle il corpo astrale non si forma di solito c'è il lunare che personale il mercuriale che è collegato al ai cieli quando si riesce a diciamo far influenzare il macrocosmo diremmo in magia quando la stella a sei punte ad ombra la stella a cinque punte si uniscono cioè quando il macrocosmo unisce col microcosmo ecco che l'essere umano crea il corpo astrale corpo di gloria corpo e diventa immortale ma senza che ci sono loro che aiutano si può fa nulla l'orologio sono loro con buona pace di chi fa percorsi verso chissà dove ispirati da chissà chi anche negli animali si deve aspettare tre giorni gli animali non hanno un corpo astrale astrale è qualcosa di superiore ora sono termini che ne usiamo per fatti per capirci se vogliamo essere precisi hanno un corpo lunare e basta quindi anche gli animali ci mettono sempre tre giorni in ogni caso sempre corpo astrale io l'ho usato perché tutti usano questo ma voglio essere preciso corpo fisico viene chiamato corpo saturniano corpo lunare viene chiamato la nostra capacità di avere emozioni ed immaginare colpo magnetico corpo mercuriale la nostra capacità di intuire la nostra il nostro intelletto corpo solare la scintilla divina quando si unisce il corpo lunare con il corpo mercuriale di intuizione e lo si collega con gli astri sapendo come diventa corpo astrale dagli astri e quindi diventa corpo che non getta luce e quindi corpo infinito e quindi superiore quindi per essere più precisi astrale lo diciamo così per dire il corpo sottile ma se vogliamo essere precisi gli animali hanno solo il corpo lunare poi una cosa significa sognare morti che ti che le parlano solo quelli sepolti quelli cremati invece no ma solitamente quelli cremati sono liberati incarnati immediatamente come dicevo prima c'è chi si incarna subito se è molto vicino alla materia più spirituale sei più tempo ci vuole per tornare nella materia ok quindi chi è sepolto rimane il corpo lunare intatto chi viene bruciato cremato il corpo viene distrutto subito tanto è vero che in india per fare in maniera che gli allievi ma anche in occidente così possano beneficiare ancora del maestro morto non vengono cremati perché si dice già il fuoco della conoscenza il fuoco della pratica li ha già purificati non hanno più bisogno mentre gli esteri comuni sono bruciati mentre come qui se andate ai tempi ci sono dei grandi meditatori che sono che sono imbalsamati e lì il corpo lunare rimane lì anche se l'intelligenza legata a quello non c'è più però c'è rimane quella santità cosa che invece nell'essere come hanno per esempio imbalsamato stalin o imbalsamato lenin hanno fatto qualcosa di demonico perché hanno generato milioni di morti immaginate un po chissà quanti ce n'è di questi balsamati specialmente nelle famiglie molto aristocratiche per tenere questa forza vabbè un passato una cui e poi sarebbe possibile un corso sulla morte tutto questo argomento sì ma fa paura io faccio il corso ma la gente ha paura della morte paura dei processi della morte ha paura di quello che può sentire prima di quando muore parte non sente niente puoi sentire solo qualcosa o mi sto sentendo male poi si spegne tutto la morte è così pac chiuso fine e poi c'è un risvegliarsi come quando sogni si può vediamo se ci sono le richieste si può fare perché no la però gente che non si deve impressionare poi un attimo che arrivo un unione storico unagrafico giusto se i distillati devi usare solo chi li prepara sempre un saluto a te massimo il bardo definito dagli orientali uno stato iniziale nella strada dove si sosterrà ancora prima di eventualmente tornare su questo ma allora il bardo todol questo libro è possibile usarlo in chi è già pronto c'è chi va a leggere il bardo todol può farlo per lo fa più che altro per se stesso no a un essere qualunque che non è stato prima addestrato a separare la coscienza sottile della coscienza fisica fa niente poi quelle religioni in confronto esoterismo quindi se non sei pronto non fai nulla e come dico io tutti vogliono essere iniziati a prima di esser iniziare ci vuole preparazione se non funziona ma il corpo se entra in potrefazione può comunque rientrare il corpo lunare può rientrare tranquillamente il corpo lunare li abbiamo esperti effetti di zombismo abbiamo oppure di vita di alcuni presenti molto spesso per fare purtroppo un tipo di magia non tanto buona si va a far rientrare il corpo lo si forza nella necro nella necromancia non la negro manzia è un'altra cosa si forza l'entrata del lunare di staccato in un corpo in potrefazione da vita a certe parti riprendiamo quelle parti che sono certamente e si usano per delle cose non è tanta una cosa bella ma non tutto il corpo se invece il corpo non è completamente in necrosi si può avere lo zombismo poi sarebbe bello un corso improntato solo sulla morte possiamo fare 16 di due vediamo se ci avete se avete il numero legale come si fa possiamo fare scrivete a chioccio l'accademia mra cioè la segretaria vi risponde raccoglie tutte le cose poi maestro dopo che finiamo di fare tutte le incarnazioni che fine si fa dopo tu devi diventare di una dea sapete cosa si fa se sei della via diciamo più mistica ti unisci al dio ossia al creatore di questo universo e partecipi a questo universo con cui sei immortale e cosciente ma sempre unita a questo universo se sei uno un pochino più particolare ti crei il tuo universo questo è un'eternità alcuni vivono l'eternità dico essere coscienza e beatitudine altri sono più attivi generano un proprio universo come sto insegnando anche un insegnato anche nella magia bruniana o sto insegnando nell'op e cose varie si trasferiscono lì ed è qualcosa di meraviglioso perché non c'hai la materialità che ti impedisce diciamo di saltare o volare o di altro si chiama il mondo questo è il vero paradiso il mondo degli dèi però tu sei coscienza non sei che ti ha realizzato non devi tornare perché ha detto alzano e si vedono già tre non bisogna la ma la magnus opus e questa io siamo arrivando io non mi impressiono davanti alla morte ma ricordo quando morì mio marito che disse non riesco a respirare un attimo dopo era spento non è successo niente di particolarmente impressionante e così è come quando si addormenti morire ragazzi nessuno avviste visto nascere nessuno si vedrà morire c'è un mistero molto profondo in questo però non abbiate paura nella morte e come basta si dice peggio per chi rimane ok sono d'accordo però tu non lo sai quindi come gianluca gradirei come gianluca direi io stesso tipo di corsa anche se 4 se brutto meno è brutto no può essere impressionante può essere perché bisogna andare a trattare cose che solitamente rientrano nella tematica della necromancia non negromancia e ripeto quella è un'altra arte necro anzi e non a che fare con i negri o neri non a che fare con persone scure ok c'è di pelle scura non a che fare e se non c'entrano niente poverà niente 0 allora non è possibile dare un macerato una persona che si ama perché non sta bene sì certamente si può fare però bisogna purificarsi bene stare bene se tu sta facendo qualcuno per cui ami ma è stai male tu o sei preoccupare chi lo trasmetti devi stare il problema di creare queste cose che devi stare totalmente bene allora lo puoi fare poi date quindi non tutti passano dal bardo e anche no molto spesso anche con egiziano il coso egizio poi indica una prassi iniziatica che puoi ritrovarla nella golden down nel nei primi gradi nel grado specialmente 00 trovi proprio quella prassi non tutti passano nel bar solitamente lì solitamente nel 90 per cento l'incarnazione immediata specialmente oggi nel 95 per cento quindi l'altro cinque aspetta un po l'altro arriviamo a 98 ci metti diciamo un annetto il 99 ci possono mettere anche 100 anni per dire uno come padre più ci può mettere anche mille anni a tornare nostri terrestri 2000 anni 3000 anni ma torna però gli avatar perché tornano cristo perché tornerà krishna perché tornerà perché a parte che sono pensati quindi sono chiamati ma perché semplicemente sono e sono ancora nella sfera ciclica di questo cioè noi parliamo di questi avatar incredibili gesù buddha ma questi guardate che hanno a che fare solo con il nostro universo generato dal cosiddetto isvara c'è il signore del mondo il signore di tutti i mondi che ha generato questo universo e che noi dobbiamo è andarcene per farci il nostro quindi alla fine sono sempre da dentro e chi ci dice che sono veri e chi ci dice che dicendo fate il bene così noi non siamo nella ciclo di nascita e morte perché si esce dal ciclo di nascita e morte non facendo né bene e né male scusi il t9 ti fanno anche scrivere come vogliono abbia certo mi sono sempre detta ci sono tante università ma nessuno ti insegna a morire e beh la morte dovrebbe essere insegnata certo tratte facile perché grazie meravigliate grazie a te la morte esiste per chi resta sì anche io voglio fare il coche 35 è facile morire basta riuscire a essere bravi a portarsi in una cosa che io insegnai tempo fa e lo chiamai stato trasmutatorio se ti porti la io insegno tutto ieri mi ha detto una madonna ma veramente lei ha detto tutto il certo che dico tutto sono poi il tempo tutte queste cose sono copiate ok ecco cosa volevo dire attenzione da ieri è tutto registrato magia trasmutatoria originale registrata alchimia grande originale proprio se scritto registrata deprogrammazione dell'anima originale registrata magia sintetica originale registrata quindi se qualcuno scriverà magia sintetica sono facendo trasmutatoria sappiate che l'originale è qui perché per la prima volta ne ho parlato in più ma è ammonia originale quindi è tutto qui poi potete andare dove volete alchimia grande originale ma qui almeno c'è l'originale che riguarda la scienza mona poi quindi non può esistere che una persona defunta possa rimanere per un po vicino una persona amata in vita se la persona defunta è molto spirituale sì ma se la persona c'è defunta si occupa di giocare a carte di guardare la televisione si buona di cuore ma niente di che non aveva avuto neanche un'esperienza interiore di no c'è di di spirito no è solo la tua immaginazione che la crea cioè ami talmente la persona defunta che la tua capacità immaginativa molto potente che la qualità dell'anima creativa ti crea la persona devunta e tu e tu ci parli senti come si sia vero questo è poi una buona illusione se vogliamo però è così e funziona è certo che accade per essere certi di tornare umani che si fa devi salire su di fare del bene fare del bene fare del bene fare del bene praticare dominare la mente dominare le emozioni e fare del bene se fai del male per legge di natura che distruttivo torna indietro no perché non c'è moralità e il bene costruttivo quindi ti costruisce bene o male nel tempo il corpo lunare ama si dolce si comprensiva si chiara nel frattempo pratica fai domina la tua mente domina le emozioni si sempre in equilibrio non essere mai triste se uno è triste e malinconico sta distruggendo il corpo lunare e se uno è gioioso lo sta generando ecco perché l'elite genera morte distruzione paura scontentezza materialismo la distruzione dell'immortalità che vogliono sostituire con ciò che la loro idea quella di mettervi un casco in testa e farvi avere farvi perdere le capacità dell'anima la loro idea e poi di downloadare la loro coscienza in questa cosa e rimanere eterno ma non si rendono conto che anche questa cosa è stupida perché un oggetto e quindi non è vero quindi siamo proprio allo sbaraglio allo sbando comune comunque comune chiedo gentilmente alle persone interessate di scrivere su telegram t allora scrivete su telegram aggiungendo chiocciola academy mra li avrete tutte le risposte di ogni corso di ogni lezione di tutto c'è la persona preposta lì per questo per le cose profonde ci sarà ci sarà sempre a smarullare e ci sono io ma non è più per la legge più che altro e poi ci sono io quindi lì c'è la persona preposta che risponde a tutto anche io sono molto interessato a questo corso scrivete su telegram chioccio l'accademia reale vediamo di metterlo in piedi volentieri ars moriendi si è ars moriendi proprio così che dovrebbe essere insegnata come lars vivendi no perché domenica scorsa sul sito c'erano nuovi video e lunedì non più boh e non lo seguo io devo chiedere a chi se ne occupa quindi non lo so scrivi su telegram lì c'è la persona che se ne occupa io non lo so probabilmente devono essere o forse mi sembra strana non ci sia più forse devono essere risistemati non lo so sinceramente non non me ne occupo io non sono neanche in grado di occuparmi quindi ci sarà la risposta da parte scrivi su telegram e per tutto e chiedere informazioni a chioccio l'accademia mra poi grazie a voi bene io adesso penso di aver detto tutto finisco di dire 15 16 7 in italia primo incontro della pietra di fuoco che va a darvi una cosa dall'esterno una coagula al corpo lunare poi 29 30 31 l'altro perché non c'era non c'era spazio la sala non mi conteneva e quindi poter c'è ancora posto il primo è già pieno andate sul sito se volete fare dei corsi personali andate sul sito fate l'abbonamento a 99 euro per un anno e c'è dentro anche quello di 39 euro viene viene accorpato quindi avete tutti gli stessi diritti di prima in più però avrete riceverete la prima lezione primo seminario della cosa scelta e avete la possibilità di fare con sconti e cose varie il corso giusto che io ho preparato come avete chiesto per una strada ben precisa e sicura scrivete chioccio l'accademia mra su telegram e avete tutte le risposte il cammino della salamandra magnetico pietra di fuoco e vento se vi è piaciuto mettetemi un like datemi una mano per farlo conoscere agli altri grazie arrivederci asma non è che sta morendo a problemi di salute come tutti noi ha lavorato molto troppo secondo me dicevo sta attento che prima o poi sta attento che prima o poi capita anche a me sarà presente nella parte ripeto più interna quando si tratta di massacrare che lo conosce in là quando si tratta di dire no e la o di dire sì quindi essendo cancelliere e guardiane lì però c'è una persona validissima scelta personalmente da me e che conosce anche delle nostre cose perché conosce uscirà uscirà qualcosa ne parliamo quindi potete chiedere quindi non si perde nulla diciamo che asmaru stava facendo un lavoro non suo ok perché serviva una persona che facesse quello che invece adesso deve stare quindi si è stressato troppo facendo un lavoro non suo più quello che è suo e immaginate voi lavorate facciamo un esempio in fabbrica otto ore in più fate un lavoro in più di altre dieci ore alla fine lo risentite quindi è lì però per le cose più più importanti arrivederci a coccola academy mra telegram e riceverete soddisfazione a tutto poi mi direte vedrete che starete bene arrivederci